Ciao a tutti, sono Diflu di ioreview. Oggi volevo presentarvi questa fantastica applicazione per iPhone e iPad per poter modificare totalmente la schermata del nostro dispositivo. In che modo? Andiamolo a vedere. Possiamo praticamente cambiare un'infinità di sfondi per il nostro dispositivo e anche la possibilità di cambiare anche le mensoline, il contorno attorno alle nostre icone. Andiamo a vedere. Vediamo la prima opzione a disposizione. Ecco, come vedete potete scorrere e cambiare ogni tipo di sfondo, direttamente adattato al nostro schermo. Tutti sono in alta definizione. La comodità è che comunque abbiamo anche la possibilità di avere un'anteprima, tipo se premiamo questo pulsante Preview, che comunque non sono le nostre icone ma sono delle icone di esempio, riusciamo a vedere anche come sta, con i colori, il nostro sfondo. Una cosa è che questa applicazione funziona tramite internet, quindi dovete avere per forza la connessione a internet per poter scorrere le immagini. Una volta selezionata l'immagine si potrà, schiacciando il pulsante Save, scaricarla direttamente. Quindi questo è da un lato uno svantaggio perché se siamo in un posto dove non abbiamo la connessione a internet non possiamo utilizzare l'applicazione. Però il pregio di questa funzione è che comunque essendo connessa a internet abbiamo la possibilità di avere molti aggiornamenti, cioè ogni giorno ce ne sono un'infinità di nuovi sfondi. Ecco come vedete qui abbiamo la preview come ho detto e questa è la parte più semplice dell'applicazione. Andiamo a vedere un'altra opzione. Ecco qua abbiamo la possibilità di icon skin. Praticamente abbiamo il contorno delle nostre icone come vedete con variati tipi di sfondi. Anche qui con questo pulsante preview possiamo vedere l'anteprima con le icone per vedere come sta. E ce n'è di ogni tipo come vedete. Andiamo a vederne un'altra. Home screen. Questo semplicemente è uno sfondo. Sono delle immagini di sfondo dove potremo sfogliare e scegliere quella che più ci piace. Tipo, esatto, con una preview, sempre con il pulsante preview possiamo vedere come sta il nostro schermo. Ecco. Andiamo a vederne un'altra. Poi abbiamo neon. Questi qui sono praticamente tutti tra... è un mix tra contorni, delle icone e sfondi. Tutti con colori molto accesi. Ecco come vedete qua sono tutti dei bei colori belli accesi. Anche come questo che abbiamo le mensoline fatte a neon. Anche questa è molto carina. Questa applicazione è disponibile sia per iPhone che per iPad che per iPod Touch. Ovviamente, a seconda del dispositivo che andiamo a scaricare, tutte queste immagini saranno adattate perfettamente allo schermo. Quindi non dobbiamo stare a ridimensionare l'immagine per adattarla bene allo schermo come quando si prende un'immagine da Google. Tipo, se andiamo su Google e scriviamo sfondi per iPhone o sfondi per iPad, ne troveremo tanti sicuramente. Però comunque dobbiamo andare manualmente noi a decidere la grandezza per poi visualizzarla a schermo intero. Solo che a volte esce troppo grande, quindi un po' pixeloso, a volte esce un po' troppo piccole, si vedono le bande nere sopra e sotto. Mentre con questa applicazione vediamo direttamente adattata allo schermo, con la definizione giusta. Andiamo a vedere un'altra modalità. Allora, qui abbiamo la Lock Screen Maker o la Home Screen Maker. In cosa consiste? Queste due ultime possibilità non sono altro che la customizzazione completa di tutto quello che vi ho spiegato prima. Andiamo a vedere la Lock Screen. Ecco, ad esempio qui cosa possiamo fare? Possiamo scorrere con delle immagini che carica tramite internet per mezzo dell'applicazione. Possiamo decidere, questo per quanto riguarda la Lock Screen, possiamo decidere i frame, quindi possiamo aggiungere queste belle etichette, oltre che l'immagine sotto. Purtroppo queste qui non sono, ad esempio in questo caso il calendario non è aggiornato, ma è semplicemente un'immagine, purtroppo non è tipo un widget che ci permette di vedere la data, nello screen, aggiornata. È soltanto un'icona e basta, purtroppo. O se no possiamo semplicemente scrivere, togliamo il frame, per toglierlo. Ecco, questa è una pecca di questa applicazione qua, è che se decidiamo di sfogliare vari frame, per poterlo annullare o usciamo direttamente, che però ci perdiamo l'immagine che abbiamo scelto, o se no dobbiamo tornare tutto a sinistra, cioè all'inizio, per deselezionarlo. Ecco, in questo modo. Quindi se scorriamo per una cinquantina di immagini dovremmo tornare indietro per una cinquantina, quella è una pecca secondo me. Poi possiamo mettere il testo. Ecco, noi scriviamo un testo tipo iPad, esatto, dove possiamo decidere, con questi caratteri qua possiamo decidere, con questi pulsantini qua possiamo decidere se metterlo tutto a sinistra, posizionato al centro, tutto a destra, posizionarlo in alto, al centro e in basso, e possiamo decidere anche il tipo di font, la grandezza del nostro testo e anche il colore. Questa è molto carina. Questo per quanto riguarda la lock screen. Poi, oltre a questo, oltre che scegliere un'immagine di quelle che ci danno a disposizione, possiamo andare a selezionare un'immagine dal nostro urlino fotografico, o scattarla a un momento o sceglia dal nostro urlino fotografico. Quindi ricapitolando per la lock screen possiamo fare, scegliere un'immagine nostra, dal nostro urlino foto, aggiungergli un frame di quelli a disposizione e aggiungere anche addirittura un testo. Andiamo a vedere la home screen maker. Per la home screen maker stessa cosa. Possiamo selezionare un'immagine dal nostro urlino fotografico. Facciamo un esempio. Vado nel mio urlino foto. Andiamo a selezionare questa qua, ad esempio. Uno sfondo panoramico. Poi, cosa facciamo? Andiamo, se clicchiamo, se facciamo un tap sul display, andiamo a vedere un'anteprima delle nostre icone, per vedere come sta il nostro sfondo. Clicchiamo su questo pulsante qua e possiamo aggiungere delle mensole. Ce ne sono di vari tipi. Ecco come vedete. O sennò, anche qui stessa cosa, per eliminare le mensoline dobbiamo andare fino all'inizio. O sennò possiamo decidere di mettere dei contorni alle nostre icone. Tutto personalizzandolo a modo nostro. Perché così noi, come abbiamo fatto, abbiamo scelto un'immagine nostra. Abbiamo scelto il contorno che a noi piace di più. Dopodiché, quando abbiamo scelto quella che fa al nostro caso, ci basterà salvare e andarla a selezionare dal menu impostazioni. Adesso vi faccio vedere come. Ecco, un'altra pecca di questa applicazione è che se nella customizzazione dello sfondo della home screen, se non possiamo scegliere, cioè possiamo scegliere l'immagine, possiamo scegliere o i vari tipi di mensoline o i vari tipi di contorni. Non tutti e due. Cioè per dire, non possiamo mettere un'immagine nostra più una mensolina e più un contorno icone. Possiamo mettere o un contorno icone o una mensolina. Questa è una delle pecca di questa applicazione. Andiamo a vedere. Facciamo un esempio e salviamone una. Vi faccio vedere come si salva. Allora, andiamo a sceglierci le mensoline che a me, per quanto mi riguarda, mi piacciono di più rispetto al contorno. Anche perché il contorno delle icone non si sposta insieme all'icona. Quindi quando noi sfoglieremo le pagine, il nostro contorno rimarrà fisso perché comunque è una foto e le icone scorreranno. Quindi non vedremo il contorno che scorre insieme alle nostre icone, purtroppo. Quindi per quello io preferisco le mensoline. Ecco, scegliamo questo che è carino. Ecco, a me piace questo qui. Lo salviamo. Andiamo a salvare. Infatti anche qui ci spiega come fare. Ci dice di andare, di aprire le impostazioni del nostro dispositivo. Andare in luminosità e wallpapers. Aprire camera roll e selezionare lo screen che abbiamo scelto. Premiamo ok e adesso ce l'ha salvato. Entriamo nelle impostazioni. Andiamo in luminosità e sfondo. Selezioniamo per rullino foto perché ce l'ha salvato nell'ultima posizione. E lo impostiamo come schermata home. Adesso usciamo ed ecco qui il nostro tema. E niente, questo è tutto. Grazie del vostro ascolto e alla prossima. Ciao!